Gentili telespettatori, buona giornata nella supermedia di tutti i sondaggi degli ultimi giorni. Tutto il centro-destra è in salita, parliamo della supermedia Utrend Agi. Fratelli d'Italia sale dello 0,2 ed è al 28,9. Il PD al 19,7, cresce dello 0,2. Il Movimento 5 Stelle al 16,7%. La Lega di Salvini cresce dello 0,1 al 9,3. Forza Italia guadagna 0,3 ed è al 7,2. Azione al 3,9 guadagna lo 0,1. Mentre Alleanza Verdi sinistra 3,4. Italia Viva 2,6 perde lo 0,4. Più Europa al 2,5 cresce dello 0,2. Italexit al 2%, più 0,1. Unione Popolare stabile all'1,4. Noi moderati 0,8. Il centro-destra guadagna 1,0,2 e sale al 46,2. In lieve crescita più 0,2 anche in il centro-sinistra che è al 25,6%. Grazie a tutti e arrivederci a presto.